in questi giorni abbiamo bisogno di loro e loro di noi in questo tempo così difficile ci manca il loro affetto la loro esperienza la loro vicinanza vorremmo abbracciarci stringerci a loro per essere più forti insieme sono le nostre mamme i nostri papà i nostri nonni i bersagli preferiti di questo virus che ci costringe a insegnare e a imparare nuovi modi di amare a distanza proteggiamoli così senza lasciarli mai con le parole con i gesti con la spesa sulla soglia di casa perché nessuna distanza può cancellare l'amore a